Ciao a tutti ragazzi, un saluto da un fotografo al volo. Oggi voglio andare, prendendo spunto da un video di un nerd e mezzo che saluto, a far volare il mio Xiaomi Mi Drone 4K nella zona della Valsassina. Vedendo il video che ha pubblicato qualche giorno fa, o ieri mi sembra, un nerd e mezzo, ho visto che sono dei posti meravigliosi e visto che oggi è una giornata ideale, che comunque sia, c'è il sole, le condizioni merito per far volare il drone tramite le varie applicazioni, io uso Web Forecast e mi trovo discretamente bene, ho deciso di andare a fare un giro, portando anche la mia bambina, e vedevo un attimino come si comporta il drone. Ovviamente grandi soddisfazioni perché è un drone veramente interessante. Io non ho fatto l'unboxing quando mi è arrivato il drone, non ho fatto una recensione completa in tutte le sue fattispecie, perché comunque sia ci sono tantissime persone che l'hanno già fatto e secondo me quando un prodotto viene analizzato in tutte le sue fattispecie è inutile fare mille video per avere qualche visualizzazione o qualcosa in più, dunque ho preferito fare dei video dimostrativi di volo e basta. Oggi farò qualche altro video, inquadrirò il drone in alcune sue parti molto interessanti. e niente, ragazzi, io adesso proseguo per la Balsassina, che è una zonetta di strada da casa, e ci sentiamo. Benissimo ragazzi, allora mi trovo qua in Balsassina, esattamente nel luogo preciso ed esatto, dove è venuto qualche giorno fa, da un youtuber, un nerd e mezzo, che saluto ovviamente. Sono pronto adesso per far volare lo Xiaomi Mi Drone 4K, come potete vedere. Guardiamo meglio lui. Ho già montato l'elica, adesso gli faccio fare la calibrazione perché è mia consuetudine far una calibrazione ogni qualvolta che mi sposto almeno di un tot di chilometri, più caldo perché lui registra comunque le coordinate GPS e siamo più tranquilli. Va benissimo, come potete vedere, vi faccio un attimino vedere qua. Non c'è un gran sole, il sole è dall'altra parte, l'idea è mandarlo da quella parte là e fare un giretto per vedere un po' questi spettacoli posti della Balsassina. Ciao ragazzi! Perfetto, allora, ora siamo pronti per far ripollare il nostro Xiaomi Mi Drone. Ho fatto un attimino i vari settaggi e adesso partiamo un pochino. Stick in avanti. Xiaomi, perfetto in tutte le sue versioni. Stai utilizzando un attimino. E adesso facciamo un po' di giro, facciamo un po' di raccordi. Come potete vedere, è cambiato qua. E ora iniziamo in giro. Ciò di Sittà, facciamo un po' di giro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.